Tribù rossonera, amici, ovunque voi siate, vicini e lontani, un caro saluto al vostro Massimo 48. Scusate gli occhiali, ma soffro di polinosi, questo è il periodo, la primavera. Stamane avevo fatto un video dal Parco dell'Aspiranza, che tanto ci aveva portato fortuna. Ma l'audio è venuto male, e allora ne faccio uno qua, sotto casa, il Parco Giochi. Vedete, là c'è un Parco Giochi, sotto casa, nella mia casa, dove sono cresciuti i miei figli. È un po' che non ci si sente, vi voglio dire che il nostro Milan ha fatto passi da gigante, dopo 16 anni, avete visto, siamo nelle semifinali, incontreremo gli amati nemici cuginastri, speriamo che finisca come tanti anni fa, cioè che si passi noi, incrociando le dita, e poi andarci a fare la finale, in un posto che non ci portò fortuna nel 2005, ma ci siamo riscattati due anni dopo. Quindi io ci voglio credere. Pioli è stato bravissimo, Leao ieri con quella doppietta a Lecce, semplicemente da pallone d'ora, io voglio credere in questo Milan, voglio credere che questa storia finisca il più tardi possibile. Lo scorso anno uno scudetto, il diciannovesimo, quest'anno, non facciamo pronostici. Ragazzi, amici, Mela Tribù, io vi auguro, vi auguro, ci auguriamo, che il Milan vinca, vada avanti, ci faccia felici, a rispetto della Juve che si è ripresa i 15 punti, con i suoi amici, con la sua mafia, mutua assistenza fra i juventini amici, signori, forza Milan sempre, buona serata.